Un dolcetto semplice, veloce e leggero? Il suo segreto? L'acquafaba. Che cos'è l'acquafaba? E' l'acqua di cottura dei ceci, montata. Sembra albume! Ops, strasborda, non pensavo montasse così tanto. Comunque ho aggiunto un po' di zucchero a velo per dolcificarla, poi ho frullato due banane del cioccolato fondente a pezzetti e ho amalgamato. Questa mousse, semplice e con poche calorie, l'ho guarnita con un po' di cocco rapè. Con il resto dell'acquafaba ho cotto delle meringhe. Favolose!